La nostra avventura su raft è giunta a termine, ma una nuova avventura sta per cominciare Solo che questa volta non sarà così semplice sopravvivere Lo equipaggiamo e dovremo poter accendere il fuoco, guarda E vabbè Granchio, è colpa di Ferenichi No, è colpa tu Io ti avrei voluto tenere con me amico per sempre Quello sta spostando le pietre Oddio Corri Corri Un cinghiale Un cinghiale Ma sei bellissimo E ragazzi, come va? Io sono Ferenichi E io sono Stef E che ci giochiamo a Stranded Deep? E siamo pronti qui per iniziare una nuova avventura con la nostra nuova serie di Stranded Deep Che è un gioco che risulta abbastanza simile a raft Solo che anziché sopravvivere semplicemente su una zattera Dovremo sopravvivere in delle isole deserte Perché sì, ce ne sono tante Quindi ci saranno tante cose super fighe da fare Esattamente, questa è la nostra isoletta dove partiamo Il rumore dell'oceano Dei gabbiani Eh sì, delle bestie feroci che ci vorranno mangiare Se ce ne saranno Tipo Pasqualo Tipo Pasqualo Che in effetti ancora Io non lo vedo Io non lo vedo Non c'è Non c'è Non c'è Boh, magari arriverà Guarda che bello questo punto per parcheggiare il nostro Sembra fatto apposta Da prendere Va, prendite anche il secchio Oh, bello secchio Oh, non scommetto che non vedevi l'ora di avere un secchio di metallo Assolutamente Ci posso fare la pipì dentro Ma puoi fare anche in mare? No No, che chifo Eh, vabbè In mare è meglio No, poveri pesci E tanto poi dove la butti? In mare Eh, appunto Quindi? Quindi, quindi Ma tramite secchio è più civile Capito? Ok, va bene Ma noi qui non vogliamo la civiltà Vogliamo le cose rurali Ma che, ma che rurale? Spaccare i cocchi con i denti Capito? Aprirli così Noi vogliamo questo Questi, vedi, cosa sono? Sono dei teloni impermeabili Guarda, sembrano le nostre tende Sono davvero simili Infatti non le abbiamo messe Perché non ci piacciono Abbiamo comprato sì delle tende Che sono totalmente uguri a questi Proprio così grossi Infatti non le abbiamo mai messe Perché sono bruttissime I fail di Steph e Ferreni Questo è il nostro nuovo compagno Ciao Stai bene oggi? Non avevo contemplato Non ci mucicare Di avere degli amici granchi Ma ci stai seguendo per per Lasciaci in pace Ok, ci vediamo dopo Abbiamo degli obiettivi da fare Il primo ci dice semplicemente Di aprire il craft Scatto Ecco il craft Abbiamo gli strumenti Le strutture E poi le furniture Che servono le forniture Ad esempio sedie Panchine Ci siamo creati un coltellino Fatto in pietra Abbastanza brutto Questo è il nostro Cosa dove possiamo equipaggiare tutto Va che bello Questo è il nostro coltellino Lo vuoi provare Su un nostro amico granchio? Sì Sì E lo dobbiamo anche mangiare Cioè alla fine bisogna sopravvivere Certo A me stava simpatico Vabbè per il granchio Granchio è colpa di Ferrenichi No è colpa tu Io ti avrei voluto tenere con me amico per sempre Quello sta spostando le pietre Quello gira intorno Lui vivrà Lui vivrà per sempre Lui invece no Ma non lo potrei mai ricordare qual è È l'unico Guardalo Guardalo Ne abbiamo solo due Quindi uno è morto E rimasto solo lui Sei anche uno scalatore prodetto Ti vogliamo bene Ti chiameremo Lo mandiamo nelle palme a prenderci i cocchi Ti chiameremo Krabby Ma che Cioè che fantasia Già Già Come puoi chiamare un granchio Krabby Da Krabba Krabby È bellissimo È bellissimo E lui è molto felice Tristissima Ha detto che ci ringrazia per il nome fantastico che gli abbiamo dato Non è stato convinto Comunque Buttiamo giù un ficus Che ci dovrebbe servire a dare un po' di legna Per creare il refined knife Che dovrebbe essere un coltello migliorato Eh sì Con questo coltellino ragazzi Non andiamo da nessuna parte Sinceramente Vabbè però il primo che fai in effetti Cioè con le schegge delle pietre È il primo coltellino È però Sai Guarda che schifo Noi diciamo Scusa un attimo Scusa un attimo Dimmi Cioè se gli davi un calcio Anche secondo me Con il piede secondo me lo rompevi prima Più sto stacchetta Sono Uuuu E gli spam Con i piedi E lo distrugge Oh salve Un gabbiano Un gabbiano Lui si chiama Filippo Non andare in acqua Mi dai fastidio In questo gioco si può andare sott'acqua E dovremo esplorare delle cose Appunto sotto l'acqua Quindi per la felicità di Ferenichi So che infatti ci sono tipo relitti Esatto Tutte queste cose da esplorare Esatto Però io non ci tengo Mi sa che gli episodi In cui tu esplorerai sott'acqua Io non ci sarò O sarò bendata Una delle cose Ok Ta ta Ok le corde Ta 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 E Oplò Dicevo probabilmente potremmo tagliare gli alberi più grossi E beh Tipo questi È probabile Vedi che sono grossissimi E poi guarda Ci mettevo cinque colpi per buttare giù una foglia Adesso con un colpo l'ho fatto Anche quelle strappando le mani nude Ci metteresti meno tempo Devo essere più Non è vero Più cavernicoli qua Ma che cavernicoli Se te lo stai chiedendo Sto buttando giù un po' di legna Ok Per farci un fuoco Sì ho letto che il prossimo obiettivo È proprio quello di farci il fuocarello base Quindi non male Vediamo cosa ci chiede Allora Camfer Ok lo posso già fare Scegli un punto Un bel punto Eh grazie Un bel punto dove possiamo Quindi ci arrivavo anche io Qua ti piace Guarda Lì 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 è nascosto dal vento Esatto Il vento non ci spegne il fuoco Brava brava Vedi che hai capito subito Ogni tanto anche tu Io sono fatta per giocare a sti giochi Capito Sì 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 Sono già immedesimata dentro Nell'isola anch'io Capito Sì sì Dobbiamo fare un kindling Che dovrebbe essere Credo Vedi la legna per accendere il fuoco Ah beh sì 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 La paglietta per accendere il fuoco Io mi sono già dimenticata Dove l'abbiamo messo Qua Ok Facciamo così Riprendiamo questo Lo equipaggiamo E dovremo poter accendere il fuoco Guarda Eh vabbè Proprio come nella realtà Super realistico Sì ragazzi Sì ragazzi Lo vorrei troppo fare Mi hai avuto l'occasione di farlo realmente No Neanch'io Però secondo me è molto difficile Anche secondo me Anche secondo me è molto difficile Però non impossibile Quindi secondo me se studi bene come si fa Si può fare Guarda già lui ci ha messo una vita Eh bravo bravo Ok Dobbiamo cucinare la carne Praticamente si butta per terra Ok sto leggendo infatti i comandi Si acchiappa così E la dobbiamo mettere sul fuoco Lasciala Sì sì bisogna cuocerla bene 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 Sì ma la devi tenere Devi tenere ferma La sto tenendo io Sì vedi la posso anche muovere E se la molli Credo che cada Eh ma cade sul fuoco Ah non rimane sul fuoco La devi proprio tenere No ma dobbiamo rimanere due ore qui Finché non si cuoce Sì sì la dobbiamo cuocere È proprio perfetta A puntino Esatto 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 Secondo me è pronta No ci siamo rimasti due ore È per forza cotta Ci siamo due ore qua A me sembra sempre uguale A me sembra sempre uguale Però la provo a mangiare Vado Ah Andata Buona Siamo morti No Ok Sembra tutto ok Sembra tutto ok Nel caso era un po' di sushi Hai letto cosa dobbiamo fare adesso Sì Prendere un cocco Finalmente anche quei cocchi Cocchi benitretti E tu ti chiederai Come puoi arrivare lì in alto A prendere un cocco Ti arrampichi per forza Già Perché questo è il gioco Tecnicamente io mi arrampicherei Questo è il gioco più bello del mondo E si possono pure scalare gli alberi Quindi No è giusto È giusto Opla 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 Allora lo buttiamo a terra Poi riprendiamo il coltello Lo dobbiamo spaccare A questo punto noi lo possiamo bere Quindi facciamo Opla Opla Ok Credo di averlo bevuto Aspetta Drinkable Fammi vedere È vuoto Ok è vuoto Quindi però noi E lo possiamo spaccare A questo punto lo possiamo spaccare per mangiarlo Beh certo certo Giustamente il cocco così si fa E che bello Doppia cosa Siete fame Buonissimo Che buoni il cocco Mi sta facendo venire fame Vero Vediamo come stiamo Questo qua praticamente ci dice La temperatura L'orario E il giorno Ci dice anche quanti giorni siamo Ci dice anche quando siamo Siamo ad aprile Se ti interessava saperlo Nel gioco è il 3 aprile Ok ok Bello Primavera Ho capito L'inizio di primavera In un'isola deserta È bello no? Esatto Assolutamente bellissimo È proprio in mezzo alla natura E guarda qua Invece a differenza di raft Abbiamo vita Fame Acqua Ma pure sonno Quindi avremo bisogno Anche di dormire Ogni tanto tempo Tantissime statistiche Lo so Lo so Oh no la notte La notte Muoviti a fare il rifugio Che non si sa mai Che cosa può arrivare Qui la notte Ok ancora tramonto Quindi abbiamo ancora Un po' di tempo Già adesso non si vede più nulla Figurati dopo Dobbiamo tagliare questo pezzo E credo che ci dia le foglie Con le foglie Dovremmo riuscire a crearci Il nostro bellissimo rifugio E lì possiamo dormire E far passare la notte Ce l'abbiamo fatta Non si vede nulla Ma siamo riusciti Senza farci i materiali Andiamo vicino al fuocherello E piazziamolo E qui in zona Sì E dormiamo assolutamente Allora lo mettiamo qua così Sì mi piace Posso girarlo? Vai va bene così Ok però Allora Interact Possiamo salvare Quindi salviamo subito Che è la cosa più sicura E poi si dorme Oh quindi sicuramente Passa la notte Ci svegliamo belli riposati Siamo pronti Per una nuova giornata Vediamo Ed è ancora notte Non abbiamo dormito abbastanza Forse ci ha svegliato qualcosa Capito? Qualche rumore You can't sleep again Sono alle 4 del mattino E vedi ci sono svegliati un po' presto Allora notato che abbiamo tantissima sete Sì E un po' di problemi con la fame Sì si è spento il fuoco Abbiamo sete Abbiamo un po' di fame Ed è ancora notte Ed è ancora notte Io l'ho detto che era difficile Sopravvivere in questo gioco Io ve l'ho detto ragazzi Non sarà per nulla semplice Questo è il distillatore d'acqua Però il solar steel Solar steel Sembra comunque per l'acqua Ed è decisamente più semplice da fare Rispetto a questo Eh ma non è che per la pioggia Capito? Quando piove Potrebbe Cioè io ancora non ho visto pioggia Però in questo gioco Vabbè che ci siamo da due giorni Però Siamo a secco Oh Bellissima l'alba Ok allora vediamo Io crafto quello Rischio Perché l'altro livello di materiali Non ce la facciamo È davvero tosto Troppo 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 Ma abbiamo due secchi Bellissimo Meglio Tanto meglio Così ce ne rimane uno E possiamo craftare questa struttura Ci volevano le pietre anche giusto? Eh Tre pietre Sì Ma abbiamo tutto Ce la mettiamo qua? Sì sì Allora lo voglio tipo così Ok perfetto Ok È per interagire Eh vedi che è per Te l'ho detto Non lo possiamo riempire Tipo riempire il secchio e mettercela O è solo davvero per l'acqua piovana? Partiamo così? Dici che ci dobbiamo avventurare di già? Sì Perché ci servono proprio tanti materiali? Io ho un po' paura di andare subito così All'avventura Hai ragione di aver paura Però Se noi andiamo sempre dritti Ok Sappiamo anche esattamente dove è di nuovo la nostra isola Quindi No certo Possiamo anche tornare indietro Quello sì Che poi allora Se ti guardi intorno non si vede niente di niente C'è neanche una piccola cosa all'orizzonte C'è proprio neanche lì dietro Nulla Nulla proprio di nulla Allora devo andare dritto per dritto Quindi così Vado Vai dritto dai Ush Ush Spero che non incontreremo proprio adesso Pasqualo Io ho una paura incredibile Ti dico la verità Perché se adesso sbucca e ci attacca Io muoio Seduta Ci buca il gommone e poi ci mangia Non mi buca il cuore Cioè te lo dico Te lo dico perché È esagerato Ma io è tutto per tutto Rischiamo la morte al primo episodio È finita la nebbia E non si vedono isole Vedi quella è la nostra Oh Enorme Questa è bella Questa è bella Ti piace Corri Corri Muoviti a remare Muoviti a remare Oddio Pasqualo Lascialo stare Comunque vediamo proprio la nostra isola Sì Che poi evidentemente appaiono Mamma no che va avanti Perché dalla nostra Comunque non vediamo Esatto Sicuramente è fatto Si generano mamma no che va avanti Per dare l'esplorazione Oh salve Gran Chietto Oh ma che bella Quest'isola Ma secondo me è molto più bella Dell'altra Ma è bellissima Cioè guarda queste montagne È bellissima Vedi che cambiano tantissimo Controlla che alberi sono Questo è un albero di Non ce lo dice Perché non ce lo dici Perché probabilmente Pino 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 Uh avevamo ragione Allora Ok ok Figata figata Stiamo diventando anche esperti No Un cinghiale Ciao Ma sei bellissimo Ma ci carica Guarda che cinghiali Nella realtà ti caricano E poi hai visto anche Quelle lastre di metallo Ci sono già cose diventissime Allora Ehi Voglio dichiarare una cosa Potremmo morire di fame Potremmo avere qualunque problema Ma il cinghiale Non lo ammazziamo Il cinghiale È il nostro amico Di quest'isola Anche se lui scappa da noi È il nostro amico Ma è troppo bellino Sei carinissimo Sei carinissimo Sei troppo bellino Vai corri corri Tranquillo Cioè quindi le isole Sono proprio diversissime Cioè siamo appena sbarcati Guarda Guarda la vedi Questo potrebbe essere L'aereo con cui siamo atterrati È la punta dell'aereo Ti dicevo Comunque Siamo appena arrivati Abbiamo già visto Un cinghiale Alberi diversi Oh che cavolo c'è lì sotto Non è andata sotto L'acqua che arriva Pasquale E oltretutto Anche quelle lastre di metallo E tutte cose strane E ci sono già Dei detritti Che magari Sono totalmente inutili Ok Però non lo so Ho una paura incredibile Che compaglia Pasquale Per quello ero mezzo zitto Comunque Quindi direi di fermarci così Per questo primo episodio Speriamo che vi sia piaciuto Nel caso ragazzi Supportate la serie Commentate Lasciate like Se fateci sapere appunto Se la volete vedere Andare avanti Speriamo di sì Perché per ora Tanti like per Pasquale Che è tornato Per ora promette la grande Facciandosi anche spaventare Perché ha detto Che in questo gioco Lui avrà più spazio Quindi vuole dare spettacolo Capito? Beh Noi dovremmo esplorare Dei fondali marini Quindi lui vuole proprio Dare spettacolo E prontissimo Perché ha detto Che nell'altra serie Capito? Non aveva molto spazio Poteva solo mangiare legna Qui può fare tante cose Si sta preparando alla grande Che bello Che bello Sì no volevo dirlo Perché così Se la serie continuerà Ci saranno tante emozioni Di Pasquale Certo Felicissimo Comunque ci fermiamo così Bene che si riesci così Se vi lascia Dice un bel like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare il video Di iscrivervi per non perdere Di altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Ciao